il castello ducale tratto da il tamburo di sciotte di don mario di cola il panorama di casoli ha una sagoma inconfondibile in alto sul colle e dominato dal castello con la torre e dalla parrocchiale col campanile bene ha fatto l'amministrazione comunale ad acquistare tutto lo storico edificio del castello ed a farlo restaurare con i finanziamenti del ministero dei beni culturali per farne sede di un museo della civiltà condadina e per ricavarne delle sale utili ad ogni pubblica manifestazione artistica una volta dire all'ombra del castello era come dire a milano all'ombra della madonnina significava cioè il pieno centro il cuore del paese le case erano tutte strette lì l'una sull'altra come nel cavo della mano come sotto l'ascella come protette da una chioccia chi abitava a bide castell o a colle giannino all'ombra del palazzo ducale poteva farsi vanto di una permanenza lunga più della vita stessa grazie alla successione di più generazioni oggi l'ombra del castello si distende su tetti a gronda su vie e piazzette semi vuote dopo il tramonto e all'abbandonare del tutto il sabato e la domenica l'agenda è scesa al piano sui colli vicini lungo il fiume nel declivio solatio e nella campagna verdeggiante forse la torre fu eretta prima ancora del castello alla forma pentagonale a puntone caratteristica del medioevo le altane e merlate si stagliano nel cielo e segnano un punto di osservazione unica a semiglia dalla maiella e verso oriente fino alla confluenza dell'aventino col sangro e giù giù fino all'agriatico torre campanile si tengono a braccetto anzi c'è uno sperone di muro che li tiene collegati come un cordone ombelicale peccato che la sovrintendenza alle antichità e alle belle arti non abbia dato il permesso di abbatterlo nel corso dei restauri han detto che serve per la statica perpetuano così il secolare connubio del trono e dell'altare e dello spadone medievale a difesa proaris et focis grazie 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 grazie